Ciao tifosi della Lazio, oggi vi porto una notizia caldissima direttamente dal mercato dei trasferimenti, che promette di scuotere i prossimi passi del nostro amato bianco celeste. Tenetevi forte perché la Lazio sta pianificando una mossa maestra per rafforzare l'attacco. Secondo il rinomato Gianluca Di Marzio, esperto di trasferimenti, con Fabiani alla guida delle operazioni, la Lazio ha un obiettivo speciale in vista. Stiamo parlando di Gabriele Artistico, nato nel 2002 e attualmente in evidenza al Virtus Franca Villa. Sì, tifosi, un giovane talento che potrebbe essere la chiave per il futuro offensivo della nostra squadra. Artistico ha già attirato l'attenzione con le sue abilità, e sembra che la Lazio sia pronta a scommettere in grande su questo promettente attaccante. Immaginate solo, un nuovo talento che si unisce per sommare forze al nostro già potente attacco. Ora, voglio sapere da voi, appassionati tifosi della Lazio, cosa pensate di questa potenziale acquisizione? Gabriele Artistico ha quello che serve per brillare allo stadio olimpico? Lasciate i vostri commenti qui sotto, partecipate alla discussione, non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per altre notizie esclusive ed emozionanti come questa. Seguiamo insieme ogni capitolo di questa possibile nuova era per la Lazio. Alla prossima, tifosi!